Siamo i maestri della Ronin Giuda Albenga, alla quale io opero anche nella sezione delle scuole di Carenda, insegnando alla quarta e alla quinta elementare quello che riguarda un po' di judo per cercare di far capire ai bimbi anche un po' di rispetto, un po' di disciplina e un po' di gioco, perché il nostro è un gioco. Nel gioco insegniamo delle tecniche di judo e insegniamo della difesa personale che può essere utile man mano che crescono. Questa mattina abbiamo fatto una manifestazione qui nella palestra delle scuole elementari ad Albenga, alla quale hanno partecipato sia i bimbi delle scuole di Carenda e sia i miei ragazzi della palestra Ronin Giuda Albenga. Credo che sia venuta ottimamente, tutti contenti, ringraziamo il Comune per le medaglie che ci ha regalato come sempre e ringraziamo l'Avis che è sempre con noi regalandoci delle targhe. Da quanti anni svolgete questa attività nelle scuole? Nelle scuole diciamo che saranno una decina d'anni che faccio questa attività nelle scuole, vabbè poi avevo la palestra senza entrare nelle scuole, ma visto che... In quale scuole lo fate? Solo qua ad Albenga o anche nel comprensorio o fuori? No, lo faccio solo come palestra di Ronin Giuda solo qui ad Albenga e poi vado nella regione Carenda nelle scuole elementari. Cerchiamo di divulgare quest'arte marziale che più che un'arte marziale si può dire che è uno sport, uno sport alla quale tutti possono farlo senza limiti di età e senza... Come si dice, la nostra scuola è aperta a tutti, portatore di handicap, tutti, tutti, senza distinzione di religione o colori. L'importante è le regole che noi dettiamo.